ciao a tutti io sono Octopus e ben ritrovati ad un nuovo episodio su Crusader Kings 3 con il ducato di Wessex rimettiamo dire subito il nostro simpaticissimo e amatissimo timer che non trovo più vediamo un po eccoci qua bene e ributtiamoci in partita ragazzi vediamo un po che cosa succede l'ultima volta stavamo ok chi sarebbe questa il nostro fratello è attaccato da questa vassal del Regno di Alba ok va bene non la vedo bene per questa tipa sinceramente 2000 soldati contro 4007 va bene pazienza nostra moglie spende un significativo un tempo significativo a viaggiare attraverso il Regno con le sue guardie ci sono molte questioni che può gestire per mio conto e l'apparenza militare della principessa Emma e porta con sé una un come dire ma ricorda me era molto molto ferma il il mio diritto a comandare a regnare interessante interessante 150 di prestigio o 10 di dread quanto dread abbiamo 30 prendiamo 10 andiamo a 40 bene brava la nostra moglie stavamo dicendo che l'altra volta stavamo pensando di attaccare questo simpatico signore qui per fregargli questa contea perché lui è alleato anche di questo di questo di questo regno qua noreg anzi lui è parte di questo di questo regno possiamo capire un po meglio chi è ma lui è proprio il re ho capito re marcus possiamo attaccare questo tizio ma no possiamo attaccare soltanto il l'anarch sheer non possiamo attaccare la cumberland la cumbria peccato 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 abbiamo anche molta molta pietà molta fede qua da poter utilizzare che dite io quasi quasi proverei a lanciarci in questa avventura dopo il disastroso disastrosa crociata anzi aspettiamo un pochino di più di avere un pochino più di soldati qua potremmo addirittura espandere i nostri reggimenti d'elite cosiddetti ma non penso sia il caso perché non abbiamo tantissimi abbiamo un buon un buon introito al momento ma non così buono vediamo se nostro fratello fa qualcosa nostro fratello è coinvolto in tantissime guerre davvero in tantissime guerre di cui non ci frega assolutamente niente ovviamente questa però potrebbe essere un problema negli anni marca e svezia contro noi siamo gli attaccanti in questo caso ok e vorremmo accapararci che cosa esattamente in questa guerra questa provincia qui tutto sto casino questa provincia ma qua vedete che danni marca e svezia insieme al numero di soldati letter molto molto superiore al nostro e quindi mi sa che è una cosa che non sa da fare letteralmente non sa da fare motivo in più attenzione il regno di irlanda è anche in guerra contro il nostro fratello bene il di inghilterra non è molto amato ma è molto amato ultimamente a quanto pare noi potremmo allearci con gli irlanda in qualche modo sono una range marriage di un po ipo se noi o nostro nipote qui allora fatemi capire un attimo allora la nostra morte ci succederà nostro figlio san min che ha judith che non è già non è già maritata a judith e questo tizio entrambi sono liberi mentre nostra figlia ha tre figli uno l'abbiamo già accasato mentre questa qua è fidanzata e questo tizio invece è quello quick è ancora disponibile va bene vediamo sedando il terzo genito di nostra figlia quindi il nostro nipotino in matrimonio che è questo qui con qualcuno del la casata qua succede qualcosa no perché no quante che lei non accetterebbe chiaramente sarebbe soltanto matrilineare ma non faremo sposare il nostro nipotino di due anni con una vecchia di 63 assolutamente allora a quanto pare non ci sono personaggi disponibili qua attenzione questa chi sarebbe una figlia ok primary hair questo tizio però a me piacerebbe capire no no lui è già maritato vorrei capire se c'è qualcuno se c'è qualcuno che è disponibile a fare un matrimonio con noi matrimonio vantaggioso per noi chiaramente chiaramente non si direbbe chi è questo tizio esattamente scusate perché lui sarebbe l'erede al trono di irlanda non capisco bene house malmoor ok mi riesce difficile capire probabilmente è un parente della regina quindi il trono non passerebbe ai suoi figli ma bensì a questo suo parente ok lui no cerchiamo comunque di apparentarci con qualcuno di questi simpaticoni tipo lei fin guala potrebbe tornarci utile allora vediamo un po' allora lui lei ha nove anni lui ne ha quattro lui ne ha quattro ed è l'unico figlio maschio di nostro figlio nostro figlio che potrebbe avere altri figli lui però lei non accetterebbe perché perché chiaramente lei è una di casata reale noi siamo soltanto dei semplici duchi 21 peccato io chiaramente non voglio fare un matrimonio matrilineare perché perché chiaramente non ci tornerebbe così utile come matrimonio regolare tra virgolette riusciamo in qualche modo a no non ad ucciderla chiaramente se ne mandiamo regalino 12 ma si 12 ok riproviamo no scusate allora la fia di questo tizio lei marriage con questo siamo sempre almeno 21 bene non ha cambiato assolutamente nulla perfetto mi fa molto piacere questo ho 74 di opinioni con lei proviamo un'altra cosa allora vediamo se il figlio di questo se questa qui invece accetterebbe un matrimonio con lui no anche lei stessa cosa identica identica ah no è lei l'opinione si chiamano uguali finguala e finguala ok questo è il motivo del mio misunderstanding diciamo 37 posta poco cambiare l'opinione degli irlandesi di noi sway 46 riproviamo un'altra volta scusate per questa fase un po' confusa ragazzi allora lui attenzione più 12 adesso interessante più 12 facciamo questa cosa vediamo lui come sposo di finguala macquanu di irlanda dai vediamo un po' cosa rispondono ottimo perfetto quindi abbiamo casato un nostro nipotino intanto però lei non ci dà l'alleanza ovviamente no claim vabbè pazienza no questa qua è un eccellente sa tutto del del mondo 30 di learning ragazzi molto interessante come personaggio qua stiamo siamo invasi dalle armate del regno di alba regno di alba che non è alleato dell'irlanda vediamo un po' che il regno di ingiltare è ancora abbastanza abbastanza integro rimane sempre questa zona gallese che non si riesce a non si riesce in nessun modo a conquistare veramente tenaci i gallesi vediamo se possiamo creare altre guerre interessanti guined questo chi sarebbe ah già possiamo sempre dichiarare guerra a questo tizio per espandere il nostro dominio per credita espandere il nostro dominio nel nostro regno non è mai una brutta idea però questo tiene conto anche del re di franzia i suoi alleati chi sarebbero questo tizio va bene niente in verità non si potrebbe non sarebbe brutto da fare chi è questa your prisoner e questo chi sarebbe your prisoner anche questo vabbè buttiamo fuori sta tipa per 25 soldini ok few knights intanto abbiamo ok vendiamo forbi da tutti tutti i nostri parenti e invitiamo come si faceva invite knights ah si prendiamo 150 di preciso per invitare più cavalieri alla nostra corte facciamoci un po' gli affari degli altri nel frattempo ok lui chi sarebbe 18 attenzione ok non sembra male questo tizio possiamo reclutarlo 35 va bene lui diventa il nostro cavaliere un francese va bene così un di bulgaria sempre abbastanza ben saldo ho letto anche lui di il regno di West Francia accuse di stregoneria un genio è questa qua no dai poverina una lunatica un po' una pensatrice onesta calma e timida no poverina perché sì 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 invitiamo la corte spendendo un po' di pietà e rendendo un po' meno un po' meno contenti gli abitanti della cornovaglia vieni qua vieni qua piccola genia vediamo un po' cosa possiamo fare con questa con questa tizia lei ha 42 anni quindi pazienza non può dare figli però possiamo comunque fare in modo di renderla utile in qualche modo possiamo prendere la nostra core physician sì vai bene lei diventa la nostra core physician ha comunque 20 di learning e va bene così siamo accaparati questa presunta strega come nostra come dico di corte possiamo buttare fuori sto tizio che io non ho ancora capito chi sia perché è dentro questo qui in prison by you sì ma perché cosa ha fatto di così boh mettiamolo fuori per cento monetine è un vassallo del re di alba vabbè chi se ne frega cento monetine sono sempre cento monetine allora vediamo se possiamo costruire qualcosa di interessante non possiamo migliorare nulla possiamo migliorare questo intanto facciamolo warham facciamo migliorare il porto facciamolo livello 2 bene e poi cosa che possiamo fare 6 6 no lasciamo perdere purtroppo la cultura anglosassone ci rallenta un pochino nel senso che noi siamo cornish siamo della cornovaglia e vabbè pazienza un altro cavaliere è arrivato è successo nostro genero è veramente scadente come amministratore però un sacco di claim lui no lui non è malissimo ma non è neanche beh quanto costa riclutare la corte 20 va bene vai bene anche tu teniamolo il regno di Irlanda e il regno di Alba stanno facendo letteralmente a pezzi l'esercito di nostro fratello letteralmente vediamo un po' ci sono ancora impegnati svariate guerre 2731 cerchiamo di approfittare del momento e attacchiamo questo regno vichingo vediamo cosa succede diamo una scossa questa questo episodio vai ok facendo musichetta a volumi astronomici no questo non ce lo portiamo a casa è bellissimo evitare di scontrarsi con le armate del regno di Alba e del regno di Irlanda se possibile visto che questa guerra non ci riguarda minimamente non so se sarà possibile evitare lo scontro quanto pare no dovremmo scontrarci per forza contro questi qua e mi sa che le prenderemo un'altra volta anche se non avremmo voluto scontrarci con loro loro passano su di noi e quindi si le prendiamo nuova break di Lifestyle nel frattempo e prendiamo il tratto dell'avarizia bene ok ok il nostro Marshall è stato è stato ferito e vabbè gravemente tra l'altro in qualche modo abbiamo vinto la battaglia non so bene perché ma è successo ragazzi è successo proseguiamo allora nella nostra avanzata non so bene come abbiamo fatto ma abbiamo vinto una battaglia anche se eravamo nettamente in inferiorità numerica a un certo punto vabbè prego Mr. Thrall prego fratellino gli abbiamo fatto un favore riposiamoci un po' qui in Lancashire e cerchiamo di recuperare un po' di un po' di truppe questo che fa comunque parte del nostro macro regno non direttamente del nostro Ducato ma del nostro regno sì vediamo un po' new claimant chi sarebbe ma il nostro figlio è veramente un incompetente è veramente un incompetente ha riconosciuto questa tizia che non so chi sia questo tipo irlandese come legittima sovrana di questa zona questa contea e quindi lei guadagna un claim su questa zona qua che è nostra nostro figlio è letteralmente un incompetente dovremmo assolutamente rimpiazzarlo come come cancelliere vediamo se c'è qualcun altro sì assolutamente mettiamo la nostra spy master come qua e lui vediamo di rimpiazzarlo ancora una volta che è veramente una roba brutta anche se l'arte dell'intrigo non è che sia proprio il top del nostro regno 12 però è sempre meglio di 8 quindi reclutiamo a corte questo tizio per 10 e mettiamo lui come nostro spy master non me ne frega niente se nostro figlio ci odierà un po' per questo ma è veramente una roba inguardabile nostro figlio come cancelliere diplomatico bene abbiamo il nostro spy master ci ha lasciati purtroppo prendiamo quest'altro nostro vassallo e cavaliere oppure lo potremmo prendere lui direttamente il nostro cavaliere e potremmo anche dirgli di smettere di non andare in battaglia sinceramente perché qua se no esatto sono qua gli advisor ci ci muoiono male questa guerra per che cosa sarebbe esattamente scusate ah vogliono fregarsi questa roba qua loro ah quindi siamo anche noi coinvolti in questa in questa faccenda non ho capito eh si ragazzi maledizione quindi se noi se il nostro fratello dovesse perdere la guerra noi andremmo a perdere il nostro possedimento qua sopra no che palle questo non va per niente bene perché non stiamo recuperando truppe esattamente questo non ho capito adesso dobbiamo tornare direttamente nei nostri possedimenti non all'interno delle possedimenti del nostro regno forse è questo il questo questo il problema maledetto regno di alba il regno scozzese continua a creare problemi è da un pezzo che crea problemi e non hanno smesso di farlo interessante interessante vediamo se arrivando qui ricopriamo un po' di truppe oppure no dobbiamo trovare il modo di rafforzare il regno di inghilterra notevolmente per poi provare a dare una spallata a questo regno scozzese che sta veramente creando non pochi grattacapi chi sarebbe questa una di cui non ci interessa granché sinceramente perché dovremmo reclutare la corte questa qua oppure potremmo reclutare lui no lui chi è un altro mediocre lui più che mediocre però potrebbe essere un buon un buon diplomatico almeno questo lui chi è mor rodri ok oppure 70 g di prestigio ma non mi interessa al momento lasciamo perdere tutti questi tre simpaticoni lasciamo perdere ok adesso recuperiamo un po' di truppe bene cerchiamo di vedere se riusciamo ad aumentare un po' il numero dei nostri soldati perché cominciamo ad essere un po' a corto sinceramente costruiamo dei baraccamenti nella nostra capitale facciamo degli investimenti perché dobbiamo aumentare il numero delle nostre truppe disponibili un barracks anche qui bene stiamo finendo i soldini ma ne vale la pena secondo me il nostro fratello sta tentando di disassediare la nostra fortezza qua sopra il che è lodevole è lodevole qua sembra sembra prendete tutto questo con le pinze ma sembrerebbe che gli scozzesi siano leggermente meno forti di prima quindi tentiamo di tornare su e dare una mano come possiamo e sembrerebbe che l'Inghilterra abbia trovato delle risorse di soldati validi per contrastare in qualche modo il regno di Alba e il regno di Irlanda e vediamo siccome siamo coinvolti in questa guerra direttamente o indirettamente cerchiamo di fare la nostra parte perché se no andremo a perdere questa provincietta qua sopra e insomma ce la siamo guadagnata sarebbe brutto perderla semplicemente perché nostro fratello non è in grado di gestire una guerra allora torniamo su forza 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 e ne stanno disassediando questa zona qui che è nostra your hook ok non abbiamo più look sul nostro genero pazienza va bene vediamo se riusciamo ad assediare questo no attenzione il nostro fratello ha sbagliato ha lasciato l'assedio qui per attaccare questi qua secondo me è stata una cazzata di proporzioni epiche ma nonostante tentiamo di dare una mano come possiamo ok stanno riuscendo a vincere la battaglia incredibilmente noi arriviamo giusto per dire che c'eravamo anche noi bene così stiamo qui e assediamo questa zona del regno vichingo intanto so che abbiamo un po' di libertà adesso abbiamo messo in fuga anche gli irlandesi il che è ottimo qualcuno ha creato una fazione contro di noi ma davvero chi sarebbe questo è lui ok perché lui ha creato una fazione contro di noi che problema ha questo è un nostro cavaliere e vassallo lo sceriffo di wick pensa un po' e chi se ne frega dello sceriffo di wick sinceramente vuole creare una fazione contro di noi che la crei vediamo un po' quanto lontano va vediamo di assediare questo posto per aumentare il nostro warscore in questa guerra che come vedete non è proprio eccellente al momento però assediando questa zona qua dovremmo guadagnare un po' di punti speriamo almeno abbiamo imprigionato addirittura il re hai capito questo è un peggio di rio eccellente questo ci porta al 69% della guerra murder e stefania chi sarebbe quindi lui anzi no scusate il nostro spy master ci dice che qualcuno vuole uccidere questa tipa che è un po' stupida forte profligate cosa vuol dire ah è una che ha le mani bucate spende tantissimo ok blade master ok una buona combattente una ubriacona una inclina al perdono generosa e ambiziosa poverina perché qualcuno dovrebbe ammazzare questa tipa ah nostro nostro figlio è un suo rivale ok va bene probabilmente è lui che sta cercando di ammazzarla a sto punto va bene quindi prendendo come prigioniero il re marcus di noregr e assediando anche questa zona qua siamo già al 70% del war score incredibile ragazzi incredibile vediamo vediamo che il nostro fratello è riuscito a disassediare questa provincia vediamo se riescono a farlo definitivamente si quindi anche qua siamo a zero ok ok lei è quella che ha il claim ok quindi abbiamo aumentato le relazioni con lei va bene mi fa piacere vediamo se riusciamo in qualche modo ad assediare anche questa zona qui ok perfetto bene il nostro fratello sembra che stia vincendo ampiamente questa guerra adesso sembra che le sorti del conflitto si siano ribaltate il che ci fa estremamente piacere e probabilmente riusciamo a non perdere questa questa contea dobbiamo però dire al nostro marshal di fare increase control qui perché il controllo è basso perché chiaramente venendo continuamente assediata non è il massimo domestic affair multitasking va bene togliamo che il nostro figlio sia sempre quello che ok ha un buon livello di prestigio il nostro figlio è un discreto livello di pietà al momento lui non ha nessun tipo di possedimento e questo non va bene chiaramente corno ansia dorso bla bla ok quindi dovremmo dargli una questa terra qua come stiamo l'anarchir lo daremo a lui lo daremo a lui non appena concluderemo questa guerra assolutamente e poi andremo a confinarli direttamente con il regno di svezia regno di svezia che è come vedete è un grossissimo regno vichingo molto problematico alleato del regno di danimarca e questa combinazione qua svezia di danimarca è veramente importante guardate qui la frammentazione politica che c'è è una cosa veramente imbarazzante non c'è più un'entità amministrativa vera e propria all'incentro europa sono tutti mille rivoli qua c'è due due baviere lui è re ademar di baviera e questo chi sarebbe il duca di baviera cioè sono due baviere letteralmente bavaria bavaria vabbè ok ok wow c'è veramente frammentato tantissimo nel frattempo abbiamo vinto la guerra e e ci accaparriamo quest'altra provincietta perché no chiederemo al nostro figlio segniamo lui il te lo prendi te ok così aumenterà il suo prestigio le sue introiti bla bla farà già un po' di esperienza amministrativa che non è male alla fine andiamo qui perfetto il nostro fratello mister troll ha vinto la guerra alla fine fine contro nostro fratello che è anche che è messo male tra l'altro non possiamo ammazzarlo vero? no ok lo so lo so ho detto molte volte che non è una cosa che dobbiamo fare ma giusto così per controllare per essere sicuri ok quindi abbiamo guadagnato questa provincietta qua esponendo ulteriormente il regno il malandrato regno di Inghilterra che è una forma un po' brutta si dimenti qui terra europea il continente diciamo e poi ha qualche contè in Irlanda qualche un po' si diventa qua in Scozia però manca quella solidità quella quella solidità che ci ci permetterebbe di unificare tutta l'isola o le isole britanniche sotto un'unica bandiera purtroppo ragazzi vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questo senso grazie ai nostri baraccamenti stiamo aumentando un pochino il numero di truppe che possiamo portare in battaglia questo è molto buono miglioriamo anche i campi per avere un migliore introito di di Ducati perfetto molto molto bene potremmo costruire una new holding in questa zona qua ma per il momento non lo facciamo Southampton bla 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 ok va bene qui possiamo fare un altro edificio ok vediamo l'Irlanda adesso il suo legittimo erede è questo quindi che è uno dei suoi figli giustamente aggiungo io giustamente aggiungo io ah oh fermi tutti ah attenzione l'erede al trono d'Irlanda è un vassallo del regno del re di Alba ah hai capito quindi nel momento in cui lei dovesse morire che ha già 68 anni insomma potrebbe starci suo figlio suo figlio ovvero Mormer Murciu di Fife che come vedete controlla queste due province chiaramente diventando re di Irlanda andrebbe a strappare queste due province al regno di Alba indebolendolo un pochino non male un miglior contratto allora potremmo compararci l'Eurdom di Leinster ovvero questa contea qui in cambio di una riduzione delle tasse al nostro genero potrebbe ridurci le tasse e darci 50 monetine oppure dirci no pazienza beh allora io mi prendo la contea la contea me la prendo io allora la contea me la prendo io possiamo librare il re re marcus che è questo no fermi tutti ah no abbiamo bisogno la regina sua moglie abbiamo bisogno anche lei pensa un po' questo è il nostro timer ok ah insomma perché no potremmo anche farlo a sto punto tanto la regina non è che ci impicisca così tanto mentre 100 monetine le accettiamo più che volentieri andiamo qui ok qui abbiamo uno sviluppo veramente molto molto basso abbiamo anche degli edifici tipici del del governo tribale che non possiamo chiaramente gestire evidentemente ok questo è un problema evidentemente quindi cosa succede sono tutti edifici non abilitati tribal hold e quindi potremmo rimpiazzare gli edifici ah ok 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 quindi questa zona tribale ci viene detto che per avere qualche tipo di controllo su questa zona qua dovremmo feudalizzare tra virgolette questa gente qui ah questo è un problema adesso perché tutti questi edifici qua andrebbero distrutti in pratica a meno che noi non troviamo qualcuno a cui assegnare questa zona qui però non so se si può se in qualche modo noi possiamo assegnare questa cosa qui a qualcuno cioè a questo punto dovremmo reclutare qualcuno di cultura irlandese forse ma non sono neanche sicuro si vede da qualche parte il tipo di come si dice ok qua tribal ok perché hanno un tipo di un governo diverso chiaramente fatemi vedere se find character facciamo cultura not cornish no allora religion all dynasty all bla 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 diciamo se irish come cultura ci dà qualche risultato discreto rank ok lui chi è lui tu potresti prenderti questa zona qua lui che è irish non so se sto facendo una stupidaggine oppure no vediamo lo rendiamo nostro vassallo e sembrerebbe sembrerebbe che adesso questa zona qua produca almeno un pochino sembrerebbe almeno ok quindi non abbiamo guadagnato niente abbiamo semplicemente riassegnato questa provincia a un altro vassallo che comunque siamo comunque riusciti a togliere un po' di potere al nostro genero che era che continua ad essere un powerful vassal del nostro ducato ma almeno abbiamo tolto una provincia quindi non concentriamo troppo potere in una singola figura detto questo ragazzi questo è il nostro timer quindi io vi invito a lasciare un'iscrizione al canale se volete supportare questa iniziativa fatemi sapere nei commenti cosa avreste fatto voi lasciate un mi piace se volete se questo video vi è piaciuto condividetelo con chi pensate possa trovarlo interessante e ci vediamo al prossimo episodio ciao